Benvenuti al nuovo video di Quei Figli di Puttale Ambrose Event Oggi che cosa voglio dirvi con questo video? Che siete grandi! Sto giocando Cyberpunk 2077 solo per voi Vedete che porti una serie su Cyberpunk? Fatelo sapere nei commenti Se ti è piaciuto il video iscriviti, lascia un canale Tirove lo schiaffo appena che vi vieni in giro in alzagna Un saluto al prossimo video di Inculo No, a parte iscriversi per continuare i video Noi... Che cazzo faccio raga? Per continuare il video di questo giorno Vi parla quanto strazzo questo mondo con me Perché sono moni dotato, moni... Reggino anale Unico il corno Ho fumato un po' di carne stasera raga Sono allegro Vengono i sbigli a casa mia con un fucile a cittino E mi spavano in testa Prima o poi farò la recensione su Saber in culo 2077 Una recensione Bella profonda Ma fino adesso raga Vi saluto Vi ringrazio con un vaffanculo del culo Porco dio! E vi ringrazio lo stesso Quindi iscrivetevi, attivate il campione di avvisi Soprattutto commentate Soprattutto lasciate un bel Pugno in testa Ammose a me Bella ciao cari Bella ciao Ciao! Ciao!